Irina Buriachok è un'ex tennista professionista di origine ucraina, oggi naturalizzata nel Salento. Irina insegna tennis al circolo di Arnesano, gestito insieme alla famiglia del marito, conosciuto sui campi da gioco molti anni fa. Oggi vive con apprezzione quello che sta accadendo nel suo paese, dove sarebbe dovuta tornare solo alcune settimane fa per andare a trovare i genitori. Sono arrivati il 15 che dovevo andare anch'io, lì per qualche giorno ho preso già i billetti ma poi chiaramente non sono andata perché la situazione era molto incerta, dovevo volare con mia figlia grande e poi ritornare con loro. E avevamo già molto tesi perché dicevano ogni giorno 14 ci attacco, il 15 ci attacco, il 16 ci attacco, quindi loro sono arrivati il 15 e siamo veramente contenti tutti quanti, io sono più tranquilla. Ho parlato con mia amica del cuore, lei stamattina ha cercato di andare verso ovest perché c'hanno la famiglia in campagna, hanno cercato di andare via con la macchina, sono stati 4 ore in traffico, hanno potuto fare solo 10 km in 4 ore, alla fine sono ritornati per comunque prendere altre cose perché non sanno cosa aspettare, perché comunque si sentono le esplusioni. Dalla finestra ne ho visto purtroppo aerei da combattimento, elicotteri, quindi comunque non ti sembra vero finché non vedi con i tuoi occhi e veramente sono tutti molto spaventati.